Musica Si sono piazzati qui in prima fila già dalle tre, dalle quattro, non si sa che ora, dalle tre, avete visto? Grazie che siete qua e potrete arrivare a tre bantone. Grazie a tutti e a tutti. Grazie a tutti e a tutti. però tanto lì, un applauso, ha voluto fortemente la presenza di Luca argentea con questo centro di Gini. Prego, carolizzo. Noi siamo veramente orgogliosi di Arezzo perché è in Sicilia e quindi è stata ovviamente per noi un'occasione averlo fatto, vado a passare, è un'andata partita in Sicilia, quindi andiamo con molte persone che promettono del clima straordinario per voler essere in vacanza, però per noi è un'occasione unica, per il personaggio e per la sera che abbiamo e per il calimento che il nostro pubblico ha nei miei controlli. Quindi è un piacere fare, è stato per me laverti qua e fare le stelle pari alla nostra pubblica. Grazie, grazie a tutti, grazie. Fatevi un pranzo, sono il pranzo, io direi di iniziare subito ad entrare nel vivo della serata e adesso poi magari passeremo anche il microfono da alcuni di loro per farci quali ciò fanno. Abbiamo fatto sensibile anche qualche numero della controlla, direi alla sicurezza di procedere e non ho mai capitato. Mi è capitato di fare grande fratello come parli miei ragazzi in ciclone e poi secondo mi hanno chiesto di fare carriere e quando ho vinto a corrido per fare carriere mi hanno chiesto di fare carriere. Non è che ci troviamo tutti in porto a alcune cose particolari. Non è che ben divertente, giro tanti i suoi posti, sono giro tanti i suoi posti, sono giro tanti i suoi posti. Non sono l'opportunità, non mi sono fatto questa idola, ma che vado in giro le gambe. Quindi faccio vedere la stessa situazione, tra le tanti i suoi posti, mi piace molto stare senza i suoi posti. Grazie! 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 Grazie. 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 Grazie.